Una serie di norme in aiuto di chi è stato danneggiato dai terremoti dello scorso maggio, le avvarate e il Consiglio dei Ministri, e prevedono innanzitutto l'esclusione dell'applicazione per il 2012 e il 2013 della spending review a favore dei comuni colpiti dalle scosse. Prevista anche la trasformazione in legge del protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e i Presidenti di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. La legificazione del protocollo consentirà la rapida attuazione dei contributi destinati ai cittadini e alle imprese per la ricostruzione. Inoltre le imprese che hanno subito danni potranno accedere con gli stessi meccanismi a un finanziamento statale senza oneri per far fronte ai versamenti dovuti dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Sempre per il 2013 per le abitazioni inagibili non si paga l'IMU. Infine il termine per il pagamento dei tributi è ulteriormente prorogato al 16 di dicembre. E un passo in avanti significativo, ha commentato il Governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani. Sappiamo, ha aggiunto, che non basta per questo. Chiediamo al Governo di fare in fretta e trasformare le leggi in atti e gli atti in autorizzazioni e finanziamenti.